E a Caltagirone la Ferrari numero 84 fece boom boom, mentre i bolidi del cavalino rampante stavano per lasciare il centro storico di Caltagirone un insolito incidente stradale coinvolto una delle 88 vetture di lusso nel tratto finale di via Luigi Sturzo. La dinamica del sinistro sarebbe chiara, il conducente che avrebbe aperto un po' di gas con la ruota avrebbe urtato contro il marciapiede sinistro e dopo aver perso il controllo dapprima ha fatto carambola con una delle vetture in sosta e con la potenza dell'urto ha perfino provocato lo scardinamento della porta in legno di un garage. Il ferrarista non appena sceso dalla vettura con le mani sul capo per quanto fosse accaduto non riusciva a darsi pace. La collisione, peraltro accompagnata da un urto violentissimo, ha provocato un forte boato che nel volgere di pochi attimi ha richiamato la curiosità di tanta gente. Tutto è accaduto nel momento in cui i bolidi, che erano tutti incolonnati, stavano per lasciare Caltagirone per la destinazione per Gusa. È certo che non capita tutti i giorni assistere a incidenti nel centro urbano con fiammanti e lussuose Ferrari. La giornata per il malcapitato ferrarista è stata sicuramente da dimenticare, sia perché è rimasto appiedato, sia perché i danni subiti non sono di poco conto. Il bolide, dopo lo scontro, ha perso pure benzina ed è stato rimosso mediante carroattrezzi. La tappa ha registrato uno stop imprevisto. La destinazione per Gusa avrà fatto registrare qualche ora di ritardo. Grazie.